Oggi scopriremo Caterina dei Medici. Ella è stata un'influencer dei suoi tempi alla corte francese. Da tacchi al gelato, dalle mutande alla forchetta, è stata una donna italiana che ha saputo come conquistare potere e rispetto in Francia. Diventando regina, portò i suoi usi e costumi. Fiorentina di nascita, figlia di Lorenzo II, il duca di Urbino e della contessa di Boulogne, andò in sposa a Cosecondo nel 1533. Anche se rimase orfana da piccola, Caterina sin da subito dimostrò di essere audace e determinata, affrontando nella sua vita non poche difficoltà. Logicamente, a 14 anni fu costretta a sposare Enrico II, il futuro re di Francia, e la causa della sua bassa statura, aiutata da un artigiano fiorentino, disegnò i primi tacchi, alti ben 10 cm, come spediente per sembrare più alta e sentirsi così più sicura. Quando arrivò alla corte francese, indossando quelle scarpe, suscitò molto scalpore e venne imitata. Caterina era così disgustata poi dal cattivo odore che manava il suo sposo, che decise per questo di introdurre anche il profumo. E divenne, così con suetudine, l'utilizzo di acqua e sapone per la propria igiene personale. Per snellire inoltre il girovita, inventò anche il primo corsetto, costringendo le donne di corte a indossarlo. Ma sapevi che a lei si deve anche l'invenzione della biancheria intima? Nel medioevo gli uomini indossavano mutande di lino o di cotone, aderenti alla vite e alle ginocchia, sotto la loro calzamaglia o la loro tunica, simile all'attuale mutande che indossano gli sportivi. Sembra che fossero però indossate solo dagli uomini e non dalle donne. Logicamente questa è una questione storica e di cui non abbiamo comunque nessuna certezza, soprattutto a causa della scarsezza di fonti. Dallo studio però di manoscritti, dipinti e incisioni dell'epoca, sembra che le mutande fossero un capo di abbigliamento prettamente maschile, poiché le rarissime volte in cui le donne le indossano sono donne un po' poco serie o fortemente sconvenienti per il sentire sociale dell'epoca, poiché indossate ad esempio dalle prostitute. Dai secoli XIV fino al XVI secolo, le brache o mutande erano un simbolo di verilità prettamente maschine e possiamo vedere dipinti anche per esempio del bronzino che esaltano la verilità maschile, proteggendo le parti intime, mentre anche durante il ciclo femminile le donne non indossavano niente o, come ci raccontano le cronache, delle pezze o tessuti simili a stracci appoggiati sul pube per non sporcare per esempio l'abito o la tunica. Anche nella villa romana del Casale di Piazza Armerina del III-IV secolo d.C. troviamo nei mosaici raffigurazione di donne per esempio in bikini, ma si tratta di atleti che indossavano nella parte bassa della specie di fasce. Nel castello per esempio della manta ci sono uomini e donne che liberatesi dalle proprie veste si stanno immergendo nella fontana della giovinezza e mentre gli uomini anche se nell'acqua notiamo che indossano le mutande, le donne no. La tradizione vorrebbe appunto che Caterina dei Medici sia stata la prima ad aver inaugurato l'uso delle mutande tra le nobili di Francia, avendo inventato un modo particolare per andare a cavallo. Le mutande entrarono in uso perché Caterina appunto era appassionata di equitazione e quindi indispensabili per la cavalcata all'amazone. Quindi le mutande furono un indumento e fece presto tendenza anche alla corte francese. Caterina si rivolgeva a sarti italiani proprio per la creazione dell'intimo con l'aggiunta di pizzi e ricami, ma anche la cucina francese non la soddisfaceva abbastanza e chiamò a Parigi dalla Toscana pasticcere e cuochi per le sue feste. L'uso di tovaglie ricamate, per esempio, eleganti bicchiere e posate vennero introdotti sempre da lei, soprattutto anche la forchetta, poiché in Francia si usava ancora a consumare i pasti con le mani. Introdusse inoltre anche la salsa colla, che oltre alpe prese il nome di besciamella, e la zuppa di cipolle, che divenne la soup d'oignon. Inoltre fu Caterina a far dividere i cibi salati da quelli dolci e portò sulla tavola l'olio d'oliva, i fagioli, i piselli, i carciofi, gli spinaci, le crespelle. Infatti a fine pasto si faceva servire anche sempre marmellata, frutta sciroppata, sorbetti, a base di arancia e limone. Fu grazie a Giuseppe Ruggeri, macellaio italiano appassionato di cucina, che fece conoscere il gelato, e anche lo zuccotto fiorentino ideato dal buon talenti. Conoscete, a proposito, il gelato alla crema del buon talenti? Se venite a Firenze non potete perdervelo, ma delle invenzioni del buon talenti vi parlerò in un'altra villola d'arte. Fu una donna colta e grande divoratrice di libri. Nella sua biblioteca personale ne aveva oltre duemila. Non era di una bellezza straordinaria e neanche in perfetta forma fisica. Fu comunque una vera ambasciatrice del gusto italiano, che ha saputo come influenzare gli usi e i costumi degli anni a venire, un po' come fanno gli influencer dei nostri giorni. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.